Musica Da una parte prosegue questo inizio 2020 per i gatteo non troppo positivo. Un parigio rimediato grazie a Castagnoli sette giorni prima in quel di Misano, oggi complici l'assenza di Fancello e Puyé, oltre che di Camilini, i giallorossi sono stati i protagonisti di una prestazione negativa in tutti i sensi. Due peli della formazione titolare mancano, d'accordo, ma è Faenza, orfana di Conti, che si è di panchina, risponde questa volta concretizzando quanto non l'era riuscito sette giorni prima contro il Bellaria, una cinquina che colloca i faentini al terzo posto della gradatoria, a meno uno dal secondo posto occupato da Pietro Acute e a meno cinque dalla capolista Russi. Il racconto del match vede nelle fasi iniziali un tentativo da una parte dall'altra, con due assoli che si concludono entrambi alti. Ad iniziare Gatteo a rispondere il Faenza, primo tiro in porta che si registra a minuto sette, quando Lanzoni per i Faenzi in posizione di filata arriva alla conclusione. Castagnoli ci mette i guantoni sulla ribattuta, Pioppo non riesce in tappi vincente, ma il vantaggio è solo rimandato. Dalla bandierina Pioppo a domestica la sfera, la palla viene ribattuta sul piede di Francesco Lanzoni, che timbra così il proprio cartellino in fase di marcatura. Alla bandierina i Faenza perdi il pelo ma non il vizio. Cisterni anticipa quel tanto che basta Castagnoli per beffarlo sul proprio palo. 0-2 per la formazione ospite. Gatteo crea la sua prima palla a gol dopo la mezz'ora, quando neanche bravo a sbettare di testa, ma altrettanto splendida non era la risposta ai ravagli. Ci prova poco dopo anche con un tiro a giro comuniello. Ma le azioni migliori continuano ad essere di marca faentina. Missiro alla quarantesima va vicinissimo al Tris. Solo la travessa li nega la gioia dei gol. E tiene a galla ancora i padrui di casa. Il colpo di testa di Cisterni è una comoda chiamata per Castagnoli, mentre la concursione di Gobbi si accomoda lentamente a lato. Lanzoni a quarantaduicimo chiama direttamente a calcio piazzato a levare le cosiddette ragnature da sette d'attento Castagnoli. È una parata che terrà a gara i giallorossi, in quanto 120 secondi più tardi giungono alla rete. Grazie all'insistenza di comuniello, che da terra trattiene la sfera, divenendo complice nell'assista a favore di Gobbi, che segue l'azione e riapre i giochi. Questa marcatura dà speranza al Gatteo. Le squadre vanno a riposo sull'1-2, ma nella ripresa la musica di solo Marca Faentina, anche se neanche, che di lì a poco lascerà il campo, quanto meno ha il merito di provarci. Ma quando Cisterni innesca Pioppo, ecco che numero 11 beffa in uscita a Castagnoli. Il poker arriva poco dopo. Pioppo in velocità, sempre lui, calcia addosso a Castagnoli. Bravo a chiuderli lo specchio della porta. Ma dal conseguente calcio di punizione, la testa di Gabrielli diviene beffarda per Castagnoli, il quale in uscita si lascia scivolare dal guantone, un pallone che aveva parzialmente bloccato. Partita a questo punto messa in ghiaccio, ma per gli applausi finali c'è ancora da aspettare, perché due minuti più tardi il traversone di Pioppo viene gettato con un straordinario colpo di testa in fondo al sacco dal partner offensivo Cisterni. La manita a questo punto è servita. Alla mezz'ora Gobbi impegna a terra Ravagli, sarà l'unico sussulto, l'unico tiro in porta di tutti i secondi 45 minuti a dopra di Gatteo, mentre Chiarini dall'altra parte chiude i battenti con questo tiro a giro che si chiude sul fondo. Per rivedere Gatteo dei giorni d'andata serviranno alcuni rientri. Il Faenza al contrario riscatta subito la sconfitta interna contro il Bellaria.